Michael Tori Michael Tori Visto che ha purata la mia rivalità calcistica con Napoli e a differenza di qualcun altro sono un uomo di parola se oggi la Juve batte il Napoli faccio un video dove canto tutto Osanai Ciao amiche Cari amici e follower di Mike e Tony mi sono appena svegliato e mi sono ricordato che dovevo fare il video della scommessa di Juve Napoli quello dove canto Osan quindi facciamolo ma prima un tocco tattico che ci vuole la mattina possiamo iniziare? ma farlo dentro casa mi sembrava troppo scontato quindi ho detto perché non farlo in giro e allora io vi lascio al video ciao Sancto, Sancto, Zana Santo Sanca 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.